Ed eccoci tornati, noi l'abbiamo resistito, siamo continuati a tutto in fila perché ci conoscete Quando qualcosa ci piace troppo noi non resistiamo Allora, abbiamo superato la notte, la tempesta ancora un pochettino, le gampe, le scatole Già, già, e volevo dirti Dimmi Senza fare troppi recap o altro perché qua in situazione estrema sto iniziando davvero a morire di fame e malamente Anche io Continuo a prendere un sacco di oggetti, espando leggermente di più e faccio un tentativo per il cibo Vai, perfetto Allora, teoricamente io posso fare un bel po' di corde perché siamo pieni zepi di foglie Esatto Dopodiché dovrei essere in grado di creare una griglia semplice Esattamente l'ho fatta Che andrò a piazzare vicino all'acqua perché così è tutto ordinato E a questo punto, cara mia, io creo una canna da pesca Facendo altre due corde Che mi dovrebbe permettere di prendere dei pesciolini Ok, sto capendo Steph, come si riempie l'acqua? Sto morendo di fame Aspetta, posso mangiarmi? Un minimo mi aiuta, ok? Come funziona la pesca? Sto iniziando ad avere un po' di visioni perché ho troppa fame Anche io ho mangiato due barbabietole, non è che aiuta tanto, però un minimo ti aiuta Sì? Ti sfama, sì Oh, ho preso un pesce Dunque ho trovato anche un progetto A ringa cruda Utile per localizzare i segnali radio vicini Uh, bellissima Bellissimo L'hai riempita l'acqua? No, non so come si fa Devi prima usare la tazza e riempirla di acqua salata e poi fai così Ah, ok L'ho fatto io per te Ok Ferre, lo vedi il pesciolino? Me lo mangio tra pochissimo Vai, vai, vai È una ringa È una ringa È pronta? Allora È pronta Io ho fame Io ho fame Ferre, pensa a prendere gli oggetti Voglio la canna da pesca Pensa, prenda Vabbè, allora tu pesca, vai Te l'ho detto, ci penso io Stem, mi si sta rompendo sta roba, quindi tra poco la devo rifare, solo quello Ok Ti gancio, mi si sta rompendo Ma ce l'ho già, tieni Ok Cioè, l'avevo fatto uno in più Tieni, te l'avevo anche detto Grazie Non si ricorda mai nulla di me Ma magari l'avevi buttato, capisci? Allora Si sa mai Ogni tanto controlla il pesce se è pronto, perché mi sto mettendo già a pescare il tuo prossimo pesce Perché altrimenti non muoio di fame io, ma muoio di fame tu No, certo, certo Dai Veloce Si è rotto, quindi me lo posiziono qua Ok È pronta Ok, quindi quando è pronta fa da solo Gnam, 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 gnam Metto subito a fare la tua E mi metto subito a ripescare Come sei con la fame? Abbastanza bene Ah, ma tu non sei così tanto male Perché hai mangiato le barbabiette Le barbabiette, Steph Mi hanno un attimino capito Ho dato un attimo di respiro Ragazzi, sta iniziando a funzionare l'ecosistema, eh Perché io sto pescando tantissimo e mettendo fisso a cuocere Abbiamo l'acqua qui Ok Riempi con acqua dolce Perfetto, me la bevo Perché stavo morendo di set Ok Metto di nuovo a fare acqua perché aveva set e anche fere, giusto? Sì Ok, allora ci penso io Non vedo isole intorno Avevamo una zattera vicina Ma non ha sufficienza Era davvero difficile da prenderla Non abbastanza da raggiungerla, purtroppo Mi raccomando, continuo a prendere un botto di oggetti Perché continuo a pescare un altro po' Ok Così ci sistemiamo come si deve la fame Ok, a posto Allora Dai un altro bel pesce Dai un altro bel pesce Non Pasqualo Doviste avvicinarsi mentre lo dicevo Ovviamente Ok Che poi volendo puoi cucinare pure lui, eh Ho preso uno sgombro Sembra buono Ricordati che Pasqualo nella prima serie di rap Si è stato cucinato tante volte Poverino, lasciamolo in pace per ora Era molto buono Pasqualo, eh Sì Sto prendendo un botto di pesci Pescare non è difficile Ma ci vuole tanto a cucinarli Ottimo Quindi bisogna stare attenti Adesso però Voglio pensare anche in un altro modo al cibo Perché non posso stare qua tutto il tempo così Perché Ferre da sola non riesce a prendere tutti gli oggetti Giustamente E quindi provo a creare un vaso di coltivazione Dai Facciamo corde Quattro ne servivano E proviamo a fare un vaso Che andiamo a piazzare sempre qua abbastanza vicino Parilozzo Pasqualo non può fare nulla Dai non ci arrivo per niente A questo punto io dovrei essere in grado di piantare le patate E dovrei avere anche delle barbabiettole Quindi ne pianto una e l'altra me la mangio Non è stata molto utile Ok Fere c'è lo sgombro da prendere veloce Sì un attimino Veloce veloce prendilo Eh raccogli sgombro Buon appetito Oh sembra stra buono Mangia Eh bello Ok Adesso prenditi l'acqua Che poi la riempio di nuovo Io devo pensare a tutte queste cose Mentre tu continui a prendere materiali Di nuovo soltanto delle rocce di fronte a noi Speravo di esplorare la nostra prima isola con più calma Acciderbolina Non sarà semplice Ok ti do un po' una mano a prendere un po' di oggetti Se voi riuscite a fare l'ancora No perché la pietra è davvero complicata Non ne abbiamo Ne ho una Ok È davvero davvero complesso È sicuramente fatta apposta Certo È sicuramente fatta apposta Per renderti più difficile l'esplorare Esatto Quindi devo pensare di nuovo all'acqua Devo mangiarmi questo pesce appena pronto Ma è davvero piccolo Non credo che mi sommerà un gran che sinceramente È proprio piccolino Ho anche coltivato delle piante Ho messo due patate Ciao Pasqualo Grazie che ci devi Hai bisogno Ha bisogno di acqua dolce Eh ma allora è un casino Un pochettino Ok Capito Sì Beh giustamente Sì Devi pur sempre far crescere Io ti espando ancora un pochettino qua Ok vai Così vivi una vita migliore Assolutamente sì Ah sì È un po' stressante questa vita in effetti eh Opla Mi devi ridare anche un po' di materiali Perché sto finendo tutto Ok Quindi ho bisogno che mi dai una mano Oh C'è un botto di plastica Vorrei Dai Riesco a chiapare questa Beh la plastica comunque se ne trova davvero tante Invece il resto è un bel po' più complicato Allora ti do quello che ho Ok Allora aspetta che Utilizzo L'acqua per innaffiare Riprendo subito Rimetto qua Mi prendo il pesce cotto Lo mangio Dato che avevo di nuovo un botto di fame Ne metto a cucinare un altro E prendo tutti gli oggetti che mi hai dato Devo essere stra smart E stra veloce a far tutto in questo momento È davvero complicato Ma è davvero bello Molto bello Cavolo se mi sta piacendo Grazie Pasqualo I survival poi è giusto che siano tosti no? Sì ma poi Cioè noi siamo nati facendo il survival Ovvio Credo sia uno dei nostri generi di gioco preferiti in assoluto Assolutamente sì Non possiamo avere difficoltà Dimmi chi è che è pata Vai prendilo ti prego Ti do una mano va Che questo è importante Non cadermi in acqua Ma Sta facendo un effetto strano perché siamo vicino a questo scoglio Sì sì ho notato Ecco sono caduto Ho trovato l'antenna in quel barile Ok Come nuovo progetto Ok Interessante Abbiamo ricevitore l'antenna quindi Non so bene Ci vorrà un po' L'acqua me la bevo Riempio di nuovo Lo rimetto a fare Devo mettere altri assi qua per cuocere Ok Che casino Devo stare attentissimo a un sacco di roba Pesci ne ho ancora per un po' Quindi non mi metto a ripescare E mi si è rirotto il gancio Quindi controllo se lo posso ricraftare Uff Che faticona Che faticona Assolutamente sì Perfetto Ok Perfetto Ah quanta roba da fare E adesso che cavolo proviamo a fare Io proveri a fare anche la pala per andare in giro Ma non avvistiamo nulla Abbiamo un letto però giusto? Su due Sì Potremmo provare a creare il secondo Perché magari così quando è notte A noi passa il tempo veloce E magari incontriamo una nuova isola Facciamo il secondo Sono d'accordo Ok 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 Vediamo se posso farlo Letto semplice Due di plastica in più E i chiodi E i chiodi I chiodi riesco a farli No Anzi sì I chiodi li ho fatti Mi serve plastica Quindi A chiappo della plastica Velocissimo Uno qua E l'altro poi mettilo dove ti pare Così l'ho già posizionato Bravissima Ok Un po' di foglie Mamma mia Mi sta avvenendo l'agitazione Questa comunque è sempre plastica Calma calma Sì è sempre plastica We can handle this Questa la prendo io Tranquillo tranquillo Aspetta È qua vicino quindi Ma dai Ma che senso Dovevo sprecare un utilizzo del nostro gancio Perché mi dimentico che ha l'utilizzo Ecco perché Ok Non è infinito Steph Non è infinito Lo so Un sacco di assi Ok 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 perfetto Perfetto Sto facendo delle cose bellissime Ok Adesso teoricamente Io i chiodi li ho creati Ho creato tutto Posso fare l'altro letto Lo vado A piazzare qua Aspetta il barinozzo Questo è utile Anche se stiamo per dormire Vieni qua Bello Ok Uh una pietra mi ha dato Steph E ho trovato anche io il progetto dell'antenna Ok Ok Sto prendendo un attimo Un altro po' di plastica Perché siamo davvero a corto Per quanto se ne trovi tante È davvero indispensabile Per praticamente Qualsiasi oggetto Per tutto Sì Addio Sono rimasto incastrato Sotto Sali ti prego Andiamo a dormire Ok dormi Basta Basta Vediamo cosa succede Vediamo Oh carino E ci ritroviamo direttamente all'alba Sì Fere però Ci sono dei dettagli No 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 Sono morta Perché Eh guardami Fame sette Troppo Fere Prendi il pesce Prendi il pesce Prendi il pesce L'acqua purtroppo Prima mangiata Ok 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 Sono viva Sono viva Sono viva Fere Fere la coltivazione Ce la facciamo Lo so che stai iniziando ad essere un po' pessimista Voglio un'isola Quindi mi sto un attimino guardando Voglio vedere una bella isola Non ci sono isole Voglio andare a esplorare Al momento non ci sono isole Anche perché ci potremo accampare lì Sai sarebbe davvero utile Pasqualo Non morsicare dove c'è il letto No No Togli il letto Togli il letto Togli il letto Ci sto provando Eh ci vuole tanto Stef Ci vuole tanto Lo so ma anche lui ci mette tanto Ce l'hai fatta vero Ok Ok Sì 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 Purtroppo costa parecchio Fere la lancia raga Quindi È per quello che non ci stiamo difendendo Prendo un altro po' di pesci Sto morendo di fame Non so perché È bassissima La fame? Ok tranquilla Sul cibo siamo a posto Adesso ti sistemo io Tranquilla Cioè io penso di sentirmi la pancia Che è brontola comunque Davvero? Sì Bellissimo Bellissimo Ok Ok Ho sempre fame poi Che stress Tranquilla Ti metto un altro Che bel pesce come sa fare Ok Poi faccio Innaffia le coltivazioni Riprendo altra acqua Rimetto a fare E qua Comunque come la gestisce Stefano La gestisce nessuno Mettilo No bellissimo Sei un fenomeno Si vede che è tanta esperienza nel gioco Sto sudando però Davvero eh Impegnativissimo Impegnativissimo Non riesco più a muovermi Ho bisogno di aspettare il pesce Quel pesce è così pronto Ma in realtà poi abbiamo anche delle patate Solo che le voglio ottenere come cosa d'emergenza Se tipo abbiamo un problema grave Capito? Certo certo Che secondo me ci sta Però ci serve qualcosa per metterci un po' Più sul pezzo Pesciolino Quanto ci vuole a cuocere? Così È dura a sopravvivere Ma si crepa nel frattempo Orza Potrei Ad esempio Fare il secondo distillatore Eh sì E io la faccio Depuratore Non è un distillatore Ok Facciamo tipo così Vai vai sì Dobbiamo fare una bella Potrei provare a proteggerlo un altro po' Quanta plastica hai cara? Sei Aspetta Perché abbiamo così poca plastica? Non lo so È una tragedia Che succede? Finalmente sono riuscita a mangiare Eh io poi mi sono dovuta fermare Era lentissimo il personaggio Non riusciva a muoversi Eh ti do quella che ho per adesso Tieni Ok Adesso la raccolgo Grazie mille Quindi raccolgo plastica Perfetto Sì Plastica e legna Anche la legna ci serve in una maniera Incredibile Ok Perché Ci serve sia per costruire Sia per mettere fisso all'acqua a fare E così via Dimmi Una zattera Ho qualcosa di strano lì giù Ok Non so cosa sia Puntiamola Puntiamola Così finalmente Andiamo anche all'esplorazione Vediamo chi si trova Ok Allora Devo mettere A cucinare altri pesci Così pochi ne abbiamo Ok Travolo Ok Perfetto Prendimelo Prendimelo Allora controllo se riesco a fare il remote Ti prego di temi di sì E mi serve Due assi di legno Dimmi che ce li hai Ne ho undici Tieni 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 Perfetto Dove sono finite qua Ok Questa plastica ci serve Adesso mi devo mettere a remare immagino E suppongo di sì Bellissimo Abbiamo anche l'ancora Anche se era monouso Però ce l'abbiamo Sta funzionando Sì Ma ci spostiamo molto Sì 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 L'ancora no Non ce l'abbiamo Perché tu quanta pietra hai? Una Eh Una Eh no Posso però provare a scontrarci In modo tale che la blocchiamo E la inglobiamo Lo spero Lo spero Altrimenti vai velocissimo Sì ma quanto è emozionante È bello È bello Davvero bello Ovviamente sto consumando tantissimo il mio cibo Era ovvio Era ovvio Che gran bel gioco Mi devi dire come sono di proporzione però Perché io non posso guardare perché devo pensare alla direzione Cioè No non mi dire che non c'è nulla Sta affondando Boh sembrerebbe Non lo so Eh sì È sott'acqua al momento No No Ferre sta Come sta affondando Ma davvero affondata? Cioè pensavo mi prendessi in giro Però ho recuperato C'era una cassa alla fine Quindi ho recuperato degli oggetti utili Ma non puoi affondare È una tristezza Ti prego Torna a galla Abbiamo fatto affondare l'alzata Lo so Abbiamo fatto affondare l'alzata Però se ci pensiamo troppo Poi ci deprimiamo Esatto Quindi sto cercando di non pensarci Forse evidentemente Con delle corde Te la puoi anche attaccare È quello che ho pensato anche io Però non avevamo nulla di simile Eh magari Capito Per farti più spazio Non lo so Non lo so Come sei con l'acqua? Sei tranquilla? Ho appena bevuto Quindi sì Perfetto Stavo di nuovo morendo di sete Quindi Qua non c'è bisogno di innaffiare Ok con l'acqua Siamo abbastanza tranquilli Devo rimettermi a pescare moltissimo Che succede a fare di me? Voglio vedere Ci serve qualcosa per sistemarci un po' Nel senso Siamo troppo in fatica Capisci? Cioè c'è qualche costruzione Che ci sistema un po' Suppongo di sì Steph Non può essere sempre così ansioso Come Gioco Eh esatto Cioè ne usciamo pazzi nei due Certo che ne usciamo pazzi Ne usciamo letteralmente pazzi Allora Ok mi sono creato un bel po' di corde Barilozzi lontani Siamo in una direzione terribile Non c'è nulla Vero? Lo so Siamo destinati Terribilissima A sopravvivere da soli Fuori Vabbè pensa che su Rafter è infinito stare soli Almeno qua Esatto Prima o poi Qualcosa troveremo Incontri qualcosa Prendi quel bel barile Ferre Che ci fa stracomodo Vai via Io continuo a prendere dei bei pesci Perché la fame è tosta È davvero tosta Ma sai Vorrei tipo le reti Che c'erano su Rafter In me lo tali Dando per più pensare Sono d'accordo Vero? Sono d'accordo È quella la cosa utile È quello il punto cruciale Secondo me Qua ci ha rotto una parte di zack Ok vengo a riparare fra poco Io adesso mi sto facendo i materiali Per farmi la lancia Dove l'ha rotto? Così lo pizzico Qua Steph Ok Ma sai che forse sarebbe anche comodo In ambito cibo Sì è ora che la fai È ora che la fai Mi manca giusto qualche asse di legno Guarda ho quasi fatto Totalmente Perfetto Ho già le corde pronte Quindi è ottima come roba Plastica Plastica Ne prendo tanta Ok raga Non è per niente male Ok Mi sono bevuto una di acqua L'altra la uso per innaffiare Poi rimetto 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 Acchiappa un po' di questi oggetti Che questo che fare non faceva in tempo a prenderli Creata Creata Così quando arriva Lo pizzichiamo in testa E basta La smette di romperci No perché comunque anche la legna non è infinita Non possiamo farci rompere così tanto la zattera Non va bene Anche secondo me Cioè sono molto limitati questi materiali Aia Dannato Pasqualo Ogni volta cado in acqua Perché devo cercare di fare delle cose E questo qua viene Mi morsica Mi fa male Bene non aspetta altro Sopportabile Ci stiamo muovendo lentissimi Eh non ci sarà vento Esatto Che poi noi potremmo fare anche la vela Però costava tanto Eh lo so È quello il problema Per il cibo come siamo messi Perché tra un po' io sto per riavere molta fame Sto gestendo la situazione Ok Sto gestendo la situazione La coltivazione sta diventando costante Non sta andando male secondo me Non sta andando male Poi se riusciamo a vittura A mangiarci Pasqualo Eh quello che vorrei fare Aspetta che arriva Ok Perfetto No ok No non credo Non lo so Deve sicuramente mettersi a morsicare la zatta E allora gli lo acchiappi Oppure vai sott'acqua e la fronti Ma non avrai mai il coraggio tu Esatto Ovviamente Se vuoi ti do la lancia Però no io non lo faccio Allora sto per morire di fame Ok Eh Devi mangiare tantissimo Aspetta tieni Ti do anche due patate Vieni qua Che se no lì si rischia di flippare Inizia a mangiarti queste due Ci sfamiamo benissimo E ci mettiamo a dormire Esatto Vero? Ok anche set Io direi di bere Opla Un'altra pietra Questa è un'ottima notizia Ok Questa è un'ottima notizia La riempio La pietra raga È un'ottima notizia Fatemi vedere un po' Ho quattro pietre Possiamo fare Ok Se troviamo un'isola Possiamo ancorarci Ok Finalmente Ottimo Prima o poi doveva capitare Dimmi che posso prenderti Bel barile E dimmi quando hai mangiato Il pesce che c'è cotto lì Eh Il pesce non ancora Ok Ok E dimmi soprattutto Come pensi di essere messa Basta Mangio il pesce abbastanza bene Vai mangiatelo Ok Io ne metto a fare un altro Vado Mangio Sì dai Sono a metà praticamente Di entrambe le cose Mi dovrebbe bastare Dormendo Su Per forza Allora Questa non so se era acqua buona o meno Quindi mi bevo questa Faccio Anche così E così Eh Andiamo a dormire Sì Ok vai Nell'altro Ok vai Isale Vediamo come mi ritrovo Ok io ho fame Io questa volta non ho perso fame e sete Davvero? Mhm Forse quando sei molto pieno Non te la fa calare così tanto Non lo so Vabbè Però sono rimasta uguale Identica Io me la sono gestita bene Quindi sono comunque soddisfattissimo Va benissimo Va benissimo E qua devo innaffiare immagino Sì perfetto Così ho già pensato anche di innaffiare la prossima coltivazione Mi bevo un po' di acqua raga È davvero davvero complicato Vediamo isole? No No vedo solo degli scogli Infatti è una noia Vorrei trovare qualcosa Esca per squali Dovemmo dare due pesce e della corda Potremmo mangiarci lui e magari potrebbe far davvero comodo Magari è più sostanzioso dei pesciolini Non lo so La vela Sto cercando di capire È fattibile Ok Potrebbe essere anche quella Un'idea Ok E poi queste cose sono solo a livello Diciamo estetico Tavolo da ricerca Costa troppe assi di legno Non me la sento Quante? Quattordici Cioè noi le utilizziamo davvero tanto per Per fare l'acqua Per fare le varie cose Sì Sì Sono d'accordo Quindi secondo me non ne vale proprio la candela Vabbè io ne raccolgo tante Dato che sto tutto il giorno a raccogliere Tipo ne ho quattordici anche ora eh Però Come hai detto tutto il giorno Faceva molto ridere Vabbè non faccio altro Sono l'addetta a raccogliere i rottami Le cose Eh lo so ma così è un po' triste Eh lo so però qualcuno lo deve portare Steph se si vuole sopravvivere Questo è perché hai studiato troppo poco nella vita E hai dovuto fare Il raccoglitore di assi di legno nell'oceano Perché io Voglio picchiare Pasquolo Quindi l'aspetto qui al barco Non è mai venuto la candela lancia No Secondo me l'ha sentito Lo sa Brutto maledetto che non è altro Anche secondo me No Non mi faccio punzecchiare Dai pesci Ok Pesci Non ditemi che siete finiti Ok Non possono essere finiti Grazie Meno male Ok un bariluzzi in arrivo Che comunque è comodissimo Perfetto Sai cosa ti dico Che non me ne sono neanche accorto Perché mi sto divertendo Siamo a 20 minuti Quindi direi di formarci così È stata abbastanza utile Perché siamo andati abbastanza avanti La base sta migliorando Stiamo imparando a sopravvivere Abbiamo comunque almeno Approcciato una zattera Che è già qualcosa Abbiamo fatto i leti Secondo me abbiamo fatto Degli ostimi passi in avanti Quindi direi che comunque Sono parecchio soddisfatto Che succede Sta affrontando Pasqualo Eh l'hai ferito Però l'ho ferito Sei ferito adesso Sei ferito Ora avrà molta più paura Di venire Posso farà chiappare Questo silenio Quindi dicevo Ci fermiamo così Come sempre Mettete tantissimi likes Qua sotto compariranno Altri video Speriamo che vorrete Continuare a vedere La serie di Raft Perché è davvero divertentissima Speriamo anche Di uscire ad esplorare Un'isola Il più presto possibile Ferre non si accorta Di quel barile Perché sta pensando A usare la lancia Perché ormai È una combattente Esatto Quindi ci pensa Steph E ci fermiamo così